Wow 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 amici appassionati di gaming e soprattutto di Airstone finalmente abbiamo notizie sull'espansione che cambierà completamente il meta attuale del gioco e tutte le meccaniche che ci sono adesso presenti, l'espansione sarà Gnomi contro Goblin? Eh si proprio così ragazzi siamo Gnomi contro Goblin, tema che mi fa esplodere di gioia, ho le lacrime, ho le lacrime, insomma peggio di così per quanto mi riguarda è difficile trovare, comunque Goblin contro Gnomi nuove esplosive carte in arrivo a dicembre saranno 129 carte, qua ce ne sono alcune adesso andiamo subito a analizzarle molto velocemente Arrivano i robot, uffo robot, uffo robot, arrivano tutti i robot, grosso guerra formato toscabile e senza contare che verrà aggiunta la modalità spettatore, quindi potreste guardare quelli forti che giocano piuttosto che amici, penso amici, forse quelli forti non puoi guardarli, puoi guardare solo chi è nell'attualista amici, comunque questo lo scopriamo presto Ma andiamo, ritorniamo in Airstone per vedere un po' le nuove carte uscite che onestamente entrano nella sfera della culologia di Airstone E senza indugiare oltre vediamo subito le 25 carte, une in fila all'altra, cerchiamo di dargli un commento abbastanza veloce, abbastanza così di pancia, poi so già che quello che dirò adesso verrà smentito come so, i ragnetti No questa è una cagata, che cazzo di carta, e invece no, è dappertutto, quindi la uso anch'io, quindi non perdete però quello che ho visto per dire, ma comunque andremo a vedere subito le 25 carte Più, attenzione ragazzi, più fondamentale, la carta segreta, quella che nessun canale ha, quella che nessuno al mondo ha ancora visto, ma solo in esclusiva per il canale del duca Partiamo subito con la prima carta che verrà rilasciata a dicembre, il fastidio bot, il nome fa cagare, questo siamo sicuri e garantito, è un 1-2 costo 2, con provocazione scudo divino A me non fa impazzire, è una carta, è tipo un fante di borgodoro con la scudatura, niente di che Partiamo subito con la seconda carta, e qua si cominciano già ad andare sul penale Orotron, nome più facile raga, 3000, leggendaria, grido di battaglia, ogni giocatore equipaggio un'arma casuale, io l'ho vista in azione raga, vi metterò anche un link sotto a questo video Per andare a vedere un po' queste carte in azione, visto che sono usciti dei video diciamo non proprio ufficiali, ma comunque si vedono in azione, e ho visto questa carta in azione Vi dico la verità, un disastro raga, cioè fate conto che molto presto vedrete presentissima allora questa, questa allora diventa fondamentale adesso Perché ho visto un mago impugnare l'arma, un prete impugnare l'arma, quindi boh, è Harrison Jones, io ce l'ho, me lo tengo lì, è lì apposta Boh, casuale poi ragazzi, potete impugnare qualsiasi arma presente nel gioco, non è il mazzo, casuale Costo 5, un 3-4, a me fa cagare, comunque andiamo avanti con la prossima carta Lanciatore di bombe, lanciatore di bombe, queste sono tutte bombe ormai, grido di battaglia, infligge 4 danni a un servitore nemico casuale Ancora il caso che ci compete, costa 5, è un 3-3 Boh, se c'è solo un servitore in campo posso capire, ma con tutti gli 1-1 e gli 1-2 a me sembra anche questa è una carta abbastanza inutile Non mi ho ancora visto, questa, attenzione, questa è una carta che può dar fastidio, è un 1-1 con costo 1, rantolo di morte, sempre i soliti rantoli Infligge da 1 a 4 danni a un nemico casuale Tenete presente che con tutti questi rantoli di morte sapete benissimo che il becchino diventerà carta assolutamente incredibile Perché ormai sono rantoli di morte, solo rantoli di morte Io voglio solo becchini, se possono mettere 3 nel mazzo li metto 4 anche Il robobomba può essere una carta che può essere utile questa in costruito secondo me Perché comunque costa solo 1, è un riempitivo e fa da 1 a 4 danni a un nemico casuale Secondo me questa come fill, come riempitivo per una giocata può starci Non è anche questa il massimo della vita onestamente, non ho ancora visto carte veramente interessanti Andiamo alla prossima Tecno Ingegnere ha 2 attacco fin tanto che controlli un robot Questo costa 1, è un 1-2 e se c'hai un mazzo robot può tornare utile Non è il massimo, preferisco sempre il caro vecchio becchino perché lui più ha più 1, più 1, qualsiasi rantolo di morte metti Tecno Ingegnere a sto punto, lo vedo anche lui in seconda fila Il Dottor Boom, attenzione il Dottor Boom cosa fa raga? Evoca 2 robobombe 1-1, le robobombe possono esplodere Le robobombe 1-1 come abbiamo visto prima sono queste, robobomba Cioè questo entra in campo e evoca 2 robobombe che morendo infilgono da 1 a 4 danni a un nemico casuale Leggendaria, scusa 7-7-7 Discreta Niente che possa cambiare il meta in maniera considerevole A meno che vabbè tu giochi il 7-7 e cerchi di far esplodere le bombe in qualche maniera Però insomma Insomma può tornare utile ma mi sembra situazionale come carta questo 7-7-7 Il Dottor Boom Il nome è bello però, finalmente un nome è bello Poi c'è il Potenzia Bot che è una epica, il grido di battaglia fornisce casualmente come al solito agli altri tuoi servitori Furia del Vento, Provocazione o Scudo Divino Non lo so cosa posso dire Questo è come per acaso, sembra la carta che può distruggere tutto o fare veramente lo schifo totale Boh, questa veramente non so come commentarla, veramente boh Cioè ti può dare o su Furia del Vento o Provocazione o Scudo Divino A seconda di quello che ti serve sicuramente ti uscirà la parte contraria Andiamo a vedere il prossimo ruolo Questo, questa è la carta più bella che ho visto per adesso La Pecora Esplosiva Rantro di Morde Infligge 2 danni a tutti i servitori Questa può essere veramente un'ottima carta Contro, cioè tipo un gol instabile che costa 2 ma è un 1-1 E lo puoi far esplodere anche te volendo perché è un 1-1 Comunque si fa esplodere abbastanza facilmente Abbastanza facilmente Anche ad esempio il Warlock può giocarlo e poi usare la sua bella Spira Letale Facciamo un esempio E quindi ho anche il mago col suo potere eroe può buttarla giù e farla saltare in aria Sono due danni, non sono pochi per una carta che costa 2 ed è un 1-1-1 E' chiaro che fa gli stessi danni appunto dell'abominio che è Rantro di Morte Insomma questa costa 2 però raga Questa costa 2 Questa costa 5 Questa è una carta che secondo me verrà usatissima Almeno all'inizio, almeno credo E poi vediamo Prossima carta Questa è una carta, vedete che Questa è una carta come vedete è grigia quindi è una carta comune Cioè la carta che va bene per tutte le classi Questa è la carta del mago perché è azzurra Quando ha, non so se avete notato Quando ha lo sfondo diciamo La cornice azzurra è del mago Quindi sputa fiamme Infligge 4 danni e un servitore nemico casuale Insomma non è Una gran carta secondo me Perché costa 2 Fa 4 danni e un servitore casuale Anche qua casuale Non è il massimo Il mago ha appunto C'è il dardo di gelo Che fa 3 danni e congela Molto meglio il dardo di gelo Che 4 danni e un servitore casuale Anche questa Se c'è un servitore solo in campo Sei tranquillo Ma se ce ne sono 4 Non sai più dove va a finire la magia Quindi è un po' una carta persa Questa secondo me non va bene Tecno mago goblin Alta carta del mago Grido di battaglia Se controlli un robot Infligge 4 danni Suddivisi casualmente Come sempre Tra i nemici È un 4 È costa 4 Ed è un 5 a 4 Le statistiche sono ottime Grido di battaglia Non è male In un mazzo Mago Mage Ci può stare assolutamente Cioè sarebbe D'obbligo In un mazzo Mago Mage È chiaro che Bisogna vedere poi Le altre carte che mancano Come sono E che effetti hanno È buona comunque questa Assolutamente Vediamo la prossima Oh il bombarolo più pazzo Raga questa Insieme alla pecora È la mia carta preferita Bombarolo più pazzo Grido di battaglia Infligge 6 danni Suddivisi Casualmente tra tutti Gli altri personaggi Questo fa 6 danni Raga Provate a pensare un attimo Io gioco il bombarolo E uso lo shadow step Bombarolo E uso il birraio Cioè in un mazzo For fun Un mazzo trollone Questo è È il totale Questo è fantastico Pensate che avete giù Per esempio Non so La pecora Buttate giù questo E fa saltare tutto Fantastica Questa carta qua For fun È eccezionale Da avere Ci costruiranno Mazzi Folli Secondo me E ci proverò Anch'io Probabilmente Fantastico Questo è veramente Fantastico Perché con Lo shadow step E appunto Il birraio Sia il mastro Che quello Il giovane birraio Secondo me Vediamo un po' Si trova il birraio Raga E qua ogni volta Eccoli qua Con questo Stile qua Soprattutto con questo E con lo shadow step Del Che sarebbe il passo Dell'ombra Scusate Del Del ladro Assolutamente OP Assolutamente OP Cioè questo lo giochi Poi lo giochi a 3 Si lo puoi giocare due volte In un turno Effettivamente Perché 5 3 8 Si A 8 puoi giocare due volte E fai 12 danni Però raga Veramente è la festa Della Sagra Delle bombe Andiamo Della prossima carta Che è Il tuo robot Costano un mano in meno È un robo evocatore Questi qua Del costano Un mano in meno Non sono mai carte Che prendono Particolarmente Il meta La mettiamo lì da parte Ci sta magari In un mazzo Basato solo sui robot Ma avete visto anche voi Che fine hanno fatto Vediamo Sicuramente Li pomperanno molto Questi robot Il robo evocatore Come vi ho detto Insomma Carta Che possiamo anche lasciare Dov'è E passiamo su La seconda leggendaria Rilasciata Queste 25 carte La me sono 26 Vi ricordo che c'è la Carta finale La carta OP La carta Incredibile Nessun canale Youtube L'ha mai fatta vedere Io Il duke Ce l'ha Quindi Questa è esclusiva mondiale Non discuto Ma adesso andiamo avanti Il mag geniere Termospin Ragazzi Una laratrice Praticamente E quando un servitore nemico Muore Evoca un gnomo contaminato Madonna mia Che roba Questa è da studiare Non ne ho idea Se sia forte o meno Ma a me non sembra fortissimo Però è da studiare Ce ne sono di meglio Perché è un 9 Un 9-7 Quando un nemico Servitore muore Bisogna far saltare Tutti in aria Ma se costa 9 Come fai saltare Tutti in aria Devi usare sempre Le bombe Praticamente Perché devi far saltare Una pecora E allora Ti convochi Tantissimi Gnomei contaminati Poi magari Sarà la bomba La carta più Di tutti i tempi Dovranno nerfarla Invece no Io non credo proprio Micromacchina Ottiene più un attacco Inizio di ogni turno Questo ottiene più un attacco Inizio di ogni turno Questi qua Che tengono attacco Inizio di ogni turno Alla fine Fanno una brutta fine E lo dico Poi solo più un attacco E ha due di vita Costa due Micromacchina Io non ti vedo Tra le carte Importanti La testa di Mimiron Attenzione La testa di Mimiron Se controlli È leggendaria Se controlli Almeno tre robot All'inizio del tuo turno Vengono distrutti Per formare Il Botron 7 Il Vio 7 Tron Che è una carta Che vedremo dopo Un'altra leggendaria Praticamente Funziona un po' Come Diciamo Taddeus In questo caso Ti sega i tre robot E ti crea un super robot gigante Che andremo a vedere dopo Queste cose Sapete anche voi ragazzi Fare di tre minion Magari buoni Un minion solo Non è mai una grandissima cosa Perché sai benissimo Che comunque Può essere silenziato O eliminato E un bersaglio È meglio che tre Andiamo a vedere la prossima carta Che è il Sega Tronchi Pilotato Rantolo di morte Evoco un servitore Casuale Ragazzi Sempre casuale Quando è casuale Ricordatevi una cosa Non è nel vostro mazzo Nel mazzo avversario È No Neisus Mi spiace Dopo Non è nel vostro mazzo Nel mazzo avversario Ma è casuale Cioè nel mondo Di Airstone Tutte le carte esistenti Con due Quindi con due Quindi queste Tutte queste Qualsiasi di questa Può essere questo Può essere questo Può essere questo Può essere Qualsiasi Carta Che però Non da grido di battaglia Ricordatelo Quando viene messa sul campo così Non da grido di battaglia Cioè questo Vabbè Questo fa cagare Questa non pescherebbe una carta Avete un 1-1 Inutile Quindi Sega tronchi Ti seguo subito Un 4-3 A costo 4 Non avrà riscontro Il super goal è impilotato Rantro di morte Aveva come un servitore Casuale anche qua Tipo quell'altra Da 4 di mano Anche qua La stessa cosa Non potete avere troppa scelta Perché comunque Dove che è raga Da 4 Si può essere Il drago del crepustuo Però penso che scenda A 4-1 Perché senza Di battaglia Quindi potete immaginare Può scendere Fiera morte Come può scendere Un bel Guardiano del Sein Quindi Altra carta Che secondo me Difficilmente Avrà impatto A meno nei mazzi Quelli proprio Che tira la moneta E vai Che ti diverti A sbattere giù Tantanto per Farti 4 risate E la prossima carta E la prossima carta È il Trasmutatore Attenzione Grido di battaglia Trasforma Un tuo servitore In un altro servitore Con lo stesso costo di mana Quindi questo Se tu giochi Il guardiano del Sein E lo trasformi Può venire Qualsiasi altra carta Con 4 di mana Senza grido di battaglia Anche qui Qualsiasi Non nel mazzo Qualsiasi All'interno Di tutte le carte Tutti i servitori Esistenti Di valore 4 Disponibili Per quella classe Chiaro che Non posso Non puoi evocarmi Qualcosa Del paladino Per esempio Dell'appunto Non possono Cagarti fuori Penso Un elementare dell'acqua Se hai un warlock Master riduttore Grido di battaglia Meno 2 Attacco Attenzione Questa è bianca Vedete Questa è bianca Quindi È Da quello che ricordo io È la carta Del prete Il prete Visto che È Deboluccio Ragazzi È deboluccio Allora Visto che aveva problemi Con gli attacchi 4 Gli hanno messo Questa carta qua Così almeno Se gli metti su Un drago del crepuscolo O Qualsiasi altra O Isera Piuttosto che Maligos Lui cosa fa Gioca questo Un bel trasmutatore E poi Lo elimina Con Parola d'ombra Vedete Già forte prima Con questa carta Si potenzia Ulteriormente A mio parere Che non era già Forse la classe più sfigata Del gioco A mio parere Ma siamo sempre Ragazzi Ricordiamocelo Le prime 25 carte Di 120 Ne mancano 95 Insomma Si fette Il tempo a cambiare tutto Ecco qua Un altro Sega Tronchi Stavolta È un Sega Tronchi Di Snid È un costo 8 5-7 Statistiche non particolarmente buone Ma evoca un servitore Leggendario casuale Oh Ci mancava una cosa casuale Finalmente Quindi Leggendario casuale Leggendaria No porca Non so neanche scrivere Leggendaria Eccolo qua Creazione Quindi può uscirti Non so Penso anche a quelle di classe Però Già qua ti può uscire Un Milausman a lampo Senza che di battaglia Un Nat Pagel Ramingo E costa 3 Ed è un 3-4 Le statistiche non sono male Non ha nessun effetto Finalmente Una carta senza nessun effetto Non è male ogni tanto Insomma Va bene in un mazzo robot Fa la sua spocca figura Anche perché Un costo 3 A 3-4 Non è assolutamente male Ragazzi Un costo 3 A 3-4 Non è assolutamente male Torniamo alla creazione Vedete qua Che i costi 3 Sono 2-2 2-3 3-2 3-3 2-3 3-1 1-4 Questo invece totale È 7 di statistiche Nessuno ha 7 di statistiche Qua come potete vedere Quindi è una carta buona Assolutamente A parte questo Ma poi si colpisce Deve essere guarito È una carta buona Però va chiaramente In un mazzo robot E il portale instabile Attenzione Altra carta del mago Portale instabile Portale instabile Eccoci qua No scusate Il mago dove Eccoci qua Il blocco Ok Portale instabile Mette nella tua mano Un servitore casuale Il suo costo si riduce Di 3 di mana Attenzione Quindi mette Nella tua mano Dopo i segreti Lo scienziato pazzo Casuale E tutto Mette nella tua mano Un servitore casuale Raga casuale Non del mazzo Casuale Di tutte le carte di Ayrton Il suo costo Si riduce Di 3 di mana Quindi Se pescate Per esempio Un Per dire Un piromate selvaggio Costerà penso 0 Si Costerà 0 Se pescate La crocetta scarlata Costerà 0 E se vi da Per esempio Un So Un gigante del mare Il gigante del mare Dipende anche da quanto hai In campo Vedi Come influisce Su questi qua Che Hanno un costo di mana Variabile Si vedrà Penso che comunque Venga scalato Quindi Con il gigante Interessante Però sto dicendo Se Prendete Un elementare del gelo Costerà 3 Come tutte È tutto così Insomma Sarà tutto così Casuale però Può capitare Anche C'è dotessa Il lume Piuttosto che Il sicario Di corvolesto A 4 O il golem da guerra A 4 O carte Carte come Non so Maligos Che se non hai magia Non servono assolutamente a niente A costo 6 A me non piacciono Tutte queste cose Casuali 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 Se tu Adesso inseriamo qua Casuale Penso che Casuale Vediamo Ecco Tutte queste sono già casuali Guardate Queste sono casuali Non sono tantissime Tutte queste sono casuali 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 Ecco Fate conto che di queste che vi ho detto Sono più o meno 15 Di queste 25 Sono casuali Quindi Si riempirà di casuale ovunque E andiamo avanti di casuale Va bene E Prossima carta Ripara bot migliorato Questo è un mazzo Chiaramente Robo Va benissimo Perché è grido di battaglia Più 4 Saluto Un altro robot E' un 5 5 5 Quindi Le statistiche Vanno benissimo Sono quelle Di un costo 5 E ha un buon effetto Su Vedete che questo è un 5 4 4 Ma c'è arrantolo Questo ha le sue caratteristiche Questo è un 4 2 Insomma Come carta E' sicuramente più forte Più forte Dei normali costo 5 Avanti Con la Ma se no Sembrava queste cose in fondo Ragazzi Ne mancano 2 3 E poi c'è la super carta finale Attenzione Quella che nessun canale ha mostrato Quella che nessuna rivista ha mai fatto vedere Malduca ce l'ha Verrà presto immessa In Airstone Insieme ad altre che vi presenterò magari In qualche video più avanti Ma vediamo subito la prossima carta Che è Il V07 Tron E ragazzi Questa è una leggendaria La terza che vediamo Con carica E super furia del vento Può attaccare 4 volte in un turno Ragazzi Io Questa carta qua La vedo un po' fortina Voi cosa dite Voi cosa dite ragazzi Questa è un po' fortina Fate conto Facciamo un esempio Per esempio Noi giochiamo Al turno 10 Giochiamo Il V07 Tron Ma va così per assurdo Riusciamo ad arrivare al turno 10 V07 Tron E abbiamo Il nostro povero E bistrattato Ladro Buttiamo giù Il V07 Tron A 8 E poi mettiamo Sangue freddo Sangue freddo Quindi questo qua Sangue freddo Sangue freddo Va a 12 Diventa un 12-8 Che può attaccare 4 volte 12-12 12-12 36-48 Facciamo 48 danni in un turno Con questo pirla qua Insomma Sembra discreta questa 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 è forte Non posso dire niente Puttana Eva Che bestia Ma anche solo Praticamente Poi buttarla giù Tirati via i taunt Pam 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 E poi colpire anche Il nemico Poi c'ha carica Quindi non può essere Neanche silenziata subito Cioè è una cosa Scena questa qua Boh Vediamo A me sembrava una cosa Il nuovo Leroy Jenkins Cioè ma Mille mila Però costa 8 Ecco Leroy Jenkins Costava 4 Andiamo avanti E questa è la carta Un'altra carta Prete Il prescelto Da Velen Dove è il nostro Amico prete Eccolo qua Prescelto da Velen Che costa 3 Una magia Fornisce più 2 Più 4 E più 1 Da animatico Un servitore Faccia del cazzo Cioè nel senso Scusate ma Mi sembra Mi sembra forte Come magia Costa 3 Non è pochissimo Però più 2 Più 4 Se non hai un silenzio Su più 2 Più 4 Ed è uno Con appunto Lo scudo Insomma Diventa dura Diventa veramente dura Mi sembra una magia Molto forte Non come quella Che abbiamo visto Prima del prete Che faceva abbastanza Cagare E adesso ragazzi Questa era l'ultima Delle 25 carte Attenzione adesso Sedetevi Spegnete le luci E preparate All'ultima carta Che solo Il cane del duca Ha in esclusiva Perché sapete Che io ho le mani In pasta con la blizzi Sono riuscito Ad ottenere 3 2 1 L'iscritto del duca Raga L'iscritto del duca Un'epica Che ha come grido Di battaglia Trasforma tutti i servitori In iscritto del duca Raga E' un 3 Con statistiche 3-4 Buonissime E trasforma Tutto la board Tutti Chiunque sia Sulla board In 3-4 Con costo 3 E quindi L'iscritto del duca Diciamo Prende piede Insomma Avete capito Una carta di quelle Veramente Che secondo me Spaccherà tutto Il meta Queste sono carte Che verranno immesse Poi Pian piano All'interno di Erz Insieme anche a quelle Del robot Ma quando Avranno rilasciate Le nuove carte Di questi gnomi Contro goblin Probabilmente Ci saranno altre carte Che andranno a interagire Con l'iscritto del duca Quindi preparatevi State qua Perché qua Solo qua Ci sono le carte Quelle segrete Di Erz Come Il grandissimo Iscritto del duca Veramente La carta più OP Massimo rispetto Per questa carta La carta che mi piace di più E che ha Vi ripeto Costo 3-3-4 Quindi buono Gritto di battaglia Trasforma tutti i servitori In iscritto del duca Fantastica A questo punto ragazzi Vi saluto Ho cercato di fare Un recap Abbastanza luce Delle carte uscite Le impressioni Così ve l'ho detto Sono quelle di pancia Quindi posso Tranquillamente Sbagliarmi Anche perché non hanno Conoscenza assoluta Del gioco Assolutamente Molte classi Anzi Sono abbastanza ignorante Ringraziandovi Per i like I commenti Le visualizzazioni Il supporto Anche all'interno Di Erz Vi saluto Ci vediamo in game Alla prossima Ciao Ah dimenticavo Va che da oggi C'ho anche un account Twitter Se vuoi Far quattro parole Sono lì Ve lo metto Da qualche parte Qui Grazie a tutti